Eccoci con Matilde, azienda Lefraghe, siamo in uno dei cuori del Bardolino. Lascio a te la parola per raccontarti, soprattutto rispetto a quello che è il tuo ruolo di vignaiola che guarda ben oltre questo territorio, ma da quest'anno direi proprio a livello anche europeo con un titolo molto importante che dà voce a tanti tanti colleghi. Però oggi torniamo in casa, parliamo della tua azienda, dei tuoi vini e vediamo lì sullo sfondo davanti a te anche due nuove etichette. Quindi prova che l'azienda non è mai seduta, no? Sì, diciamo che io mi sono un po' contraddetta perché ho sempre detto no, no, i miei vini rimarranno questi, perché ogni tanto mi chiedono mai idea di fare altri vini nuovi. Io ho sempre detto no, no, rimarrà qui, farò così. E invece poi sono uscita quest'anno con queste due nuove etichette, sono annata 2019, un progetto che è nato appunto negli anni perché avevamo... ho visto come volevo un po' sperimentare, provare a fare qualcosa che fosse qualcosa oltre il mio, Chiaretto, i Rodon e oltre il Camporengo. Quindi su questi due vini, quindi un vino rosa e un vino bianco, abbiamo fatto una selezione, che poi abbiamo deciso proprio di uscire con l'annata 2019, una selezione di uve, le nostre migliori uve sono state destinate a questo progetto e i due vini hanno fatto fermentazione e poi affinamento per un anno solo in cemento e l'anno scorso sono stati imbottigliati e li mettiamo in vendita da adesso, quindi hanno fatto anche un anno di bottiglia. Un po' la cosa anche un po' particolare è che questi due vini escono senza filtrazione, quindi non sono filtrati, infatti hanno fatto un po' di fondo, ma mi piace molto perché hanno una freschezza, un'integrità che è veramente secondo me molto piacevole e credo che sarà un progetto che proseguirà in maniera sempre più importante. Gli ho chiamati traccia di bianco e traccia di rosa perché per me proprio questo vino è una traccia nel senso di un segno, qualcosa come io ho pensato quando si dice la traccia sulla neve, quindi un piccolo percorso che ha iniziato e che poi magari chi verrà dopo di me lo porterà avanti, intanto lo porto avanti io e poi sarà un po' un passaggio del testimone a chi verrà dopo e quindi ho deciso di chiamarlo così. Bardolino e Bardolino Chiaretto, come stanno questi due vini, questa denominazione? Stanno molto bene per quanto mi riguarda, sono due vini che sono devo dire molto moderni, due vini che vengono molto apprezzati soprattutto all'estero, uno perché è rosa e quindi è un vino rosa ed è un vino rosa comunque di una denominazione importante perché è la prima denominazione in Italia e quindi gode di questa un po' rinascita dei vini rosa. L'altro invece sta andando bene ed è molto richiesto perché è un vino così, io dico un vino che è estremamente facile da bere, da accompagnare, ha questa freschezza, questa voglia, cioè è proprio un vino goloso, hai voglia di berlo ed è un vino molto molto disimpegnato perché comunque se si può usare questo termine col vino perché si può bere un po' con tutto e a questa nota prima un po' si c'è il frutto poi con un po' di invecchiamento diventa sempre più la spezia, il pepe e quindi io trovo che sia un vino veramente estremamente piacevole. Anche attuale direi. Esatto, attuale e all'estero sempre di più c'è la ricerca verso questi vini. Comunque vini di territorio, adesso c'è questo progetto, ci accennavi anche di valorizzare ancora di più questa denominazione con le tre sottozone. Sì, sono vini di territorio perché queste proprio sono le nostre uve che rappresentano l'entroterra del lago di Garda e quindi sono vini anche che hanno una storia molto lunga e una grande tradizione. Il consorzio, ora appunto abbiamo fatto come consorzio una zona azione e sono state identificate tre zone, quindi Montebaldo, La Rocca e Campagna, dove si è visto come, al di là del fatto che comunque ogni produttore poi in realtà gestisce le uve che fanno parte del bardolino in maniera diversa perché non è che le percentuali siano fisse, però si è visto come il produttore di queste tre zone abbiano delle affinità che li accomunano, delle caratteristiche che accomunano questi vini e quindi si è deciso di uscire con queste tre sottozone, la prima annata sarà il 2020, noi apparteniamo alla sottozona Montebaldo, che è la parte più a nord del bardolino e con l'annata 2020, dopo un anno dalla vendemmia, perché questi sono vini che usciranno l'anno successivo, si potrà uscire con la sottozona Montebaldo e credo che questo sia un progetto molto importante proprio per valorizzare molto le singole vigne, per valorizzare i vini che nascono da particolari esposizioni, da vigneti magari con rese un po' più ridotte e quindi quei vini che già esistono, perché non stiamo inventando nulla di nuovo, è importante dirlo, ma sono vini che sono già sul mercato, ma d'ora in poi potranno essere accomunati da questo nome della sottozona, quindi credo che anche per il suo consumatore sarà un po' più facile orientarsi all'interno della nostra denominazione.